Il caso Snowden che già aveva fatto tremare i polsi allo spionaggio di Mezzomondo rischia di fare ulteriormente precipitare i già attesi rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il presidente Barack Obama questa sera telefonerà a Putin ed è molto probabile che il telefono che ancora unisce in linea diretta la Casa Bianca con il Cremlino diventerà bollente. Il colloquio verterà sulla richiesta di asilo politico annunciata oggi da Snowden, la gola profonda dell'Agenzia della sicurezza americana bloccata dal 23 giugno nell'imbo della zona transiti dell'aeroporto di Mosca. Questo pomeriggio Snowden ha tenuto una sorta di conferenza in cui ha annunciato che oggi stesso avrebbe chiesto formalmente per la prima volta asilo temporaneo a Mosca in attesa di poter partire per uno dei tre paesi sudamericani, Venezuela, Bolivia e Nicaragua, che gli hanno già concesso ospitalità. Non danneggerò più l'interesse americani del mondo, avrebbe detto Snowden nel racconto del deputato russo Nikonov fra i pochi convocati per l'incontro, ma l'improvvisa conferenza stampa ha fatto fortemente irritare la Casa Bianca e da Washington arrivano parole durissime. Gli Stati Uniti stanno lavorando con la Russia sullo status di Edward Snowden, non c'è giustificazione per garantirgli asilo. Jay Carney, portavoce della Casa Bianca, ha chiesto a Mosca di evitare che Snowden sfrutti la Russia come piattaforma di propaganda per i suoi fini. Carney ha aggiunto che se i russi consentissero a Snowden di continuare nelle sue rivelazioni, ciò contrasterebbe con le assicurazioni ricevute che il caso non avrebbe danneggiato le relazioni fra Russia e Stati Uniti. Venuti a conoscenza della convocazione e media di Mezzumondo, oggi avevano invaso l'aeroporto. L'occasione era ghiotta a riuscire a vedere, riprendere, intervistare Snowden. Niente da fare. Ho raccontato già tutto quello che sapevo, avrebbe detto Snowden, parlando con le persone da lui convocate. Accetto formalmente tutte le offerte di asilo che mi sono state fatte e quelle future. Presenterò solo oggi formale richiesta di asilo temporaneo alla Russia, in attesa di poter raggiungere quei paesi dell'America Latina che mi hanno concesso l'asilo. Ai primi flash di agenzia arriva però come un fulmine la risposta di Washington. In attesa della risposta a questo punto e delle decisioni del Cremlino c'è da scommettere che per Snowden si stiano preparando altri giorni al chiuso nell'aeroporto di Mosca.